come vedete oggi sarà una recensione sulle bike andremo a testare e a provare la nuovissima e bellissima itua bk 10 per quanto riguarda il video di oggi l'ho diviso in tre parti nella prima parte andremo fare il montaggio nella seconda parte andremo analizzare tutta la sua scheda tecnica e nella terza parte vi dirò le mie considerazioni finali ora bando alle ciance sigla e partiamo col montaggio questo è l'aspetto con cui la itua bk 10 vi arriverà a casa praticamente è metà montata quello che dovrete montare è la ruota anteriore la sella che devo dire anche abbastanza morbida ed è anche ammortizzata i due pedali il tubo porta manubrio il manubrio ovviamente già tutto montato di freni e anche delle leve del cambio qua ci sono tutti i cavi andrà ovviamente fissato in questa parte superiore e poi vi arriverà anche una scatola con all'interno il manuale con tutte le funzioni è noto con piacere come potete vedere che anche in lingua italiana per cui è semplice da leggere questo invece più piccolo è il manuale del montaggio anche questo è comprensivo della lingua italiana l'alimentatore dotato di spina italiana per cui è perfetta per le vostre prese non avete neanche bisogno dell'adattatore i cateri infrangenti ne hanno messi addirittura quattro per cui ne potete mettere due nella ruota anteriore e due nella ruota posteriore le chiavi ne hanno messe due così se ne perdete una ne avete comunque una di scorta e tutto il kitame che serve per il montaggio ma le sorprese non sono finite perché in omaggio con l'acquisto di questa bellissima ebike avrete anche un lucchetto antifurto dotato di pin numerico ed è veramente tanta roba perché è la prima volta che trovo una dotazione così completa dentro un ebike e infatti hanno anche inserito una pompetta portatile per gonfiare le gomme per cui con queste bike non vi mancherà assolutamente niente come primo passaggio andiamo a montare la sella vi basterà aprire il fermo inserire la sella spingete delicatamente dopodiché andate a riavitare il fermo e quando sarete abbastanza stretti lo andate a chiudere come seconda cosa passiamo al manubrio tiriamo via questo tappo di gomma che è messo di protezione lo andiamo a inserire in questo vano presente nella forcella anteriore anche qua delicatamente per poi andare a serrare questa vite mi raccomando avvitate bene e stringete dovremo andare a inserire il manubrio vero e proprio spingete un pochino con un po di pressione andrà completamente dentro e concludiamo il montaggio del manubrio andando avvitare anche qui l'ultimo fermo per poi stringerlo correttamente e ora è il turno della gomma anteriore come prima cosa dovete svitare questo fermo che è stato inserito per non rovinare la forcella durante il trasporto svitiamo la testa del fermo leviamo anche una delle due molle perché ce n'è una per ogni lato dopodiché lo andiamo inserire nel buchetto che è presente all'interno della gomma lo facciamo passare da una parte all'altra inseriamo la mollettina e lo andiamo a stringere con il dado e una volta che avrete stretto bene andate a chiudere il fermo e adesso è il momento del led anteriore e del parafango il montaggio si fa nella stessa maniera ossia si svita questa vite presente sopra la ruota anteriore ci va inserito anche la luce anteriore così vengono entrambe fermate con la stessa vite come consiglio per non fare troppa fatica quando avvitate vi suggerisco di alzare il led al massimo così la vite passerà con più facilità e come ultimo passaggio per il parafango andiamo a fissare le due aste laterali vi basteranno svitarle due viti una destra e una sinistra fate passare la vite e dopo andate ad avvitare e ora mancano gli ultimi due passaggi i pedale e inserire i catari frangenti come prima cosa vi ricordo che i pedali non vanno messi a caso ma va fatta combaciare la letterina in questo caso è resta per right ossia a destra all'inizio potete avvitare anche a mano poi alla fine stringete con la chiave inglese adesso è il momento di andare a fermare anche il parafango posteriore stesso procedimento con quello anteriore ossia vi basterà svitarle due viti laterali inserire la stina metallica nera e riavvitare siamo arrivati quasi alla fine mancano solo i catari frangenti installarli non è difficile vi basterà inserire questi piccoli ganci all'interno delle linee guida e farla agganciare a un raggio della ruota e infine fermare il catari frangente con le due viti mi raccomando stringete fino in fondo così il catari frangente non si muoverà durante il moto della bicicletta vi basterà ripetere la procedura per tutti gli altri catari frangenti e ora andiamo analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa fantastica bk 10 partiamo dal cambio è il classico cambio a sette rapporti della shimano uno di quelli più utilizzati sulle bike non sarà il top di gamma ma è veramente molto affidabile per quanto riguarda invece i ruotoni guardate che super bestie che abbiamo qua sono da 20 pollici per quanto riguarda il diametro e addirittura 4 pollici di spessore per quanto riguarda il sellino l'ho adorato tantissimo come vedete è anche ammortizzato ed è veramente morbidissimo per cui non temerete nessun dosso o buco accidentale stessa comodità nell'anteriore con questo bellissimo doppio ammortizzatore tra l'altro regolabile che vi danno un comfort al 100 per cento in tutte le situazioni passando al manubrio troviamo il computerino di bordo e come vedete è molto ben luminoso si vede perfettamente anche la luce del sole adesso vi spiego le principali funzioni per accendere queste barche vi basterà tenere premuto il tasto di accensione per tre secondi e in automatico vi aprirà il display all'interno troverete la velocità massima l'indicatore della batteria l'intensità del motore e i chilometri totali per regolare l'intensità del motore vi basterà cliccare su più avrete tre velocità intensità 0 vuol dire che andate sola pedalata intensità 1 fino a 15 chilometri orari intensità 2 fino a 20 chilometri orari e la massima ossia l'intensità 3 fino a 25 chilometri orari con cui potete sfruttare al massimo il potentissimo motore blushless da 250 watt i fanali si attivano tenendo premuto per tre secondi il tasto più 1 2 e 3 come ultima funzione ed è veramente molto interessante c'è la modalità cruise control in cui fa andare da sola la bicicletta a 3 chilometri orari molto utile se per caso avete fatto la spesa oppure avete un amico con cui volete fare compagnia a piedi potete caricare tutta la bicicletta con le borse e tutto quello che avete acquistato e la bicicletta andrà da sola fino a 3 chilometri orari senza fare un minimo sforzo e per attivarla vi basterà premere per tre secondi il tasto meno come vedete la ruota sta girando in maniera autonoma veramente tanta tanta roba e sempre sul manubrio troviamo la leva del freno anteriore la leva del freno posteriore il cambio con questa levetta si abbassano le marce e con questa invece si alzano e il bellissimo campanellino anche l'impianto frenante non è affatto male perché monta un freno a disco da 160 mm guardate che bei pinzoni questo è quello anteriore e questo è quello posteriore per cui direi che anche sull'impianto frenante non hanno affatto risparmiato una menzione particolare alle manopole guardate come sono ergonomiche in qualsiasi situazione non rischierebbe che vi scappi l'impugnatura per cui anche per la sicurezza sono veramente un ottimo elemento aggiuntivo all'interno della parte centrale del telaio è nascosta la batteria che tra l'altro potete anche estrarre per ricaricarla a casa senza dovervi portare direttamente la bici per quanto riguarda le caratteristiche di questa batteria è una batteria da 36 volte e 12 ampere e per il tempo di ricarica occorrono tra le 5 e le 6 ore e come ciliegina finale vi informo che è già comprensivo di portapacchi e tra l'altro è anche bello massiccio e resistente infatti può portare un carico fino a 120 kg uno dei punti di forza di questa bellissima e bike è il fatto di essere pieghevole la sua lunghezza totale è di 184 cm ma una volta richiusa sarà solamente lunga 84 cm per cui sarà comoda per poter essere caricata in macchina se fate escursioni oppure viaggi oppure se prendete tutti i giorni per lavoro o per l'università l'autobus o il treno questa potrebbe essere la bicicletta che fa il caso vostro per quanto riguarda le mie considerazioni devo dire che questa bk 10 mi ha veramente sorpreso si è comportata bene sia sulla strada normale che sullo sterrato e anche sulle salite più ripide ha fatto veramente poca fatica come autonomia siamo tra i 70 e gli 80 km ovviamente più pedalate più risparmiate la batteria per quanto riguarda il prezzo queste bike viene venduta a meno di 800 euro che per tutte le sue caratteristiche è veramente un ottimo rapporto qualità prezzo se questa recensione vi è piaciuta mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e prima di salutarvi vi ricordo che nel primo commento e nella descrizione di questo video vi ho lasciato l'indiretto della promozione e l'intera scheda tecnica da lucatac è tutto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao